ciao amore ciao mamma oggi che cos'è? è il mio compleanno è il tuo compleanno e lo sai che tra tutte le persone che ti hanno fatto gli auguri c'è una persona molto speciale che ti ha fatto gli auguri di compleanno vuoi sapere chi è? ok guarda qui dal villaggio di babbo natale al pollo nord ecco il programma di cucina di buon compleanno con il vostro grande presentatore ci stavamo aspettando gli elfi non dimenticano mai un compleanno hai cinque anni non è vero? nei prossimi minuti Hayatus, Tuvula e Redkiff prepareranno la tua personalissima torta di compleanno pronti partenza via amici elfi il tempo è scaduto mostrateci le vostre torte oh oh perché sotto sopra ecco qui che torta meravigliosa Anastasia tanti auguri oh amore ma chi era? babbo natale e ti ha fatto gli auguri sì però ho detto che c'era anche un messaggio dopo guardiamo ecco eh dopo guardiamo ascolta ma sei contenta? sì ma te lo aspettavi? pensavi che babbo natale ti facesse gli auguri? davvero? e come mai? tanti auguri? perché alla tua volta hanno visto che mi hanno chiamato babbo natale ti aveva chiamata? sì oh amore e che era già natale ma non era perché era il mio compleanno l'anno scorso a natale babbo natale ti aveva fatto gli auguri vero? sì manda un bacione a tutti e a babbo natale ciao ciao ciao